Il Legnaro Volley Boys vince il primo titolo stagionale, quello dell'Andra 19 maschile interprovinciale, Memorial, Alex ed Elena Biasin. Nel concentramento di Borgo Ricco, organizzato con la collaborazione della Pallavolo Massanzago, Legnaro si è imposto vincendo in rimonta la terza e decisiva sfida con il Silvolley. Avanti 1-0, la formazione di tre baseleghe non è più riuscita a chiudere i conti, dopo essere stata avanti anche 8-4 nel secondo parziale. Con Legnaro a vincere 15-8 nel set decisivo. Nelle altre partite, prima il Silvolley aveva superato la dinamica Solesino 2-0, poi con l'identico punteggio il Legnaro Volley Boys aveva avuto la meglio sempre sulla squadra di Solesino. Per Legnaro una grande soddisfazione. Grande soddisfazione perché in campionato con Silvolley avevamo perso tutte e due le partite, quindi un po' li conoscevamo e noi siamo venuti qui liberi mentalmente, cosa che loro non sono abituati, quindi hanno dato il meglio per questo. La squadra è l'espressione di un progetto che raggruppa diverse realtà del territorio. Il progetto Volley Boys, che è questo progetto che abbiamo di unire la parte bassa di Padova, quindi Legnaro, Piove di Sacco, Sant'Angelo, sconfinando un po' nel veneziano, quindi paesi tipo Boillon, Campania Lupia. Questo è un progetto di Laguna-Legnaro come società, quindi è una società ibrida, nata da poco. La vittoria in finale fa sorridere Legnaro, che però guarda con occhi critici alla stagione della squadra Under-19. Il bilancio onestamente è negativo, nel senso che dai ragazzi mi aspettavo qualcosa di più come crescita. Ovviamente portare a casa un titolo fa sempre piacere, mi aspettavo qualcosina di più in fase di campionato, perché non era chiesto un obiettivo se non di giocare a pallavolo, cosa che hanno fatto molto molto raramente. È vero che è una squadra che non si allena mai insieme, quindi non c'è coesione, i palleggiatori non conoscono bene i loro attaccanti e viceversa. Però, sai, se un giocatore non hanno più 15 anni si chiede qualcosina di più. Per il Silvolle invece la delusione è molta? È moltissima, perché noi in questo girone, va bene, le prime due, Agorà e Padova, è un livello superiore. Però con queste squadre nella fase eliminatoria abbiamo sempre vinto abbastanza agevolmente. oggi si sapeva che era diverso, come avevano detto i ragazzi, però la giornata non è stata interpretata benissimo, perché anche già nella prima partita abbiamo faticato. Abbiamo fatto oggi un buon primo set, però dopo dall'8 a 4 del secondo, non so bene per quale motivo, ci siamo spenti. Siamo spenti, non siamo più riusciti a giocare. È emblematico il tie break, cambio campo 8 a 7, abbiamo subito un parziale di 8 a 1. 7 a 1. E quindi non ho altro da aggiungere. Sul terzo gradino del podio la dinamica Solesino, che guarda con soddisfazione al risultato ottenuto. È stata un'esperienza positiva per i ragazzi, perché si sono confrontati con i pari età. Noi veniamo, i ragazzi vengono da, giocano in categorie diverse e quindi hanno potuto confrontarsi appunto con atleti della loro età. È stato molto positivo secondo me. Il livello è alto, soprattutto considerando anche le squadre che ci hanno preceduto in classifica e che non sono presenti qui questa sera, perché Chione Padova e Agora Mirano sono due belle squadre attrezzate. Al termine del concentramento si sono svolte le premiazioni alla presenza di Fabio Nardo e dei genitori di Alex Biasin, che hanno messo in palio anche i trofei per i migliori giocatori ruolo per ruolo. A Marco Tolin del Silvolley è andato il riconoscimento come miglior libero il ruolo di Alex.